Noi apriamo un'opera pia alle Bahamas, la intestiamo a una bella fiduciaria svizzera, apriamo un bel conto cifrato con azioni al portatore e a quel punto i fondi li facciamo risultare come offerte dei pellegrini. Che ne dice, Monsignore? Mi piace, però mi dica, dottore, questi pellegrini alle Bahamas, come ce li mandiamo? Che ne so io, abbia pazienza, questa è materia sua, Monsignore, però. Io mi occupo di paradisi fiscali. Lei è un fine teologo e se inventi qualche cosa, che ne so, un miracolo, un'apparizione, un sanguinamento. Il sangue, le lacrime di sangue. Lacrime di sangue. Una madolina che piange come quella nera di Cersacova in Polonia, fu lì che pianse, no? O a civita vecchia? Civita vecchia. Civita vecchia, infatti, può funzionare. Mi scusi un attimo. Amore, sì, dimmi, a pranzo dal Giappa. Va bene, alle 13. Ok, ciao, ciao. A proposito di mare, a lei piace il crudo? Per carità, quei poveri animaletti, mangiati crudi, creature del Signore. Manca una scottata che danno. E così i rovini, però, sono crudi. Biscotti, sacoccio.